Ciao da Avsim! Sta per ricominciare la Serie A 2020-2021 e quale sarà la classifica finale a maggio? Non ve lo svelo io, anche perché sarebbe un pronostico così tanto per fare. Nessuno può indovinare realmente la classifica a così tanti mesi di distanza, anzi credo che sarà un campionato molto avvincente, molto complicato, con risultati sorprendenti, testa e coda, cioè sia per squadre che in questo momento sono sottovalutate, sia per squadre che sono invece proiettate in alta classifica, d'altra parte anche lo scorso campionato, anche prima dell'interruzione per la pandemia, ci aveva riservato delle sorprese appunto di piazzamento e non vi vado neanche ad elencare più o meno l'ordine delle squadre che andranno a partecipare al campionato, semplicemente vorrei fare una piccolissima riflessione sullo stato dell'arte, sulla situazione ad oggi, 17 settembre, quindi a due giorni praticamente dallo start della Serie A di ogni singola squadra, cominciando praticamente partendo dal piazzamento della scorsa stagione, quindi dalle neopromosse fino alla Juventus che ha vinto il nono scudetto consecutivo. E vi dirò quello che secondo me sarà più o meno l'esito, e cioè salvezza, non salvezza, posizione di media classifica oppure no, posizione di piazzamento europeo e quindi Champions League e anche quali saranno secondo me le squadre in lotta realmente per lo scudetto. Cominciamo allora con lo Spezia, l'ultima delle neopromosse in quanto ha vinto i playoff e non è mai stato in Serie A lo Spezia, questo è il primo dato che dobbiamo registrare. Ha un'età media in questo momento, secondo Transfermarkt, di 25,6 anni. Il plus dello Spezia, l'aspetto positivo secondo me può essere l'entusiasmo di ritrovarsi appunto per la prima volta in Serie A, ma questo può essere anche bilanciato dall'inesperienza, l'inesperienza proprio di tutto l'ambiente ad affrontare un campionato simile. L'incognita è naturalmente l'allenatore italiano che ha conseguito il patentino lo stesso giorno di Andrea Pirlo, lunedì scorso, 14, e quindi può essere bravo ma lo deve dimostrare e sicuramente sarà un'esperienza stimolante ma molto difficile per lui. I tre giocatori che vorrei sottolineare nella rosa dello Spezia in questo momento sono Yeroen Zoet, nuovo portiere acquistato 29enne, Kevin Agudelo, centrocampista 21 anni e Andrei Galabinov, punto centrale di 31 anni, da cui ci si aspetta sicuramente tanti gol. Non sono necessariamente i tre migliori, sono i tre da cui ci si aspetta di più in questo momento sulla carta. Lo Spezia si salverà? Secondo me no. Poi c'è il Crotone, la seconda neopromossa al secondo posto della scorsa serie B, 26,9 anni di media. Credo che il Crotone abbia una buona rosa ben assortita e il fatto che questa è la terza volta in serie A, cioè è la seconda promozione ma l'altra volta si salvarono, può essere anche un vantaggio rispetto ad uno Spezia che è di esperienza ne ha zero. La difficoltà, in realtà il plus del Crotone sarebbe anche le gare in casa sarebbero le gare in casa perché è sempre molto difficile per tutti andare a giocare a Crotone ma la difficoltà di contro possono essere proprio le trasferte. Anche per quanto riguarda il Crotone l'incognita a mio avviso è l'allenatore perché Stroppa ha allenato solo circa 12 partite in serie A molti anni fa quindi ha scarsa esperienza in serie A e potrebbe essere un fattore di rischio. I migliori sulla carta sono Lisandro Magaglian, difensore centrale 26enne Akhmad Benali, centrocampista di 28 anni e naturalmente Simi, l'attaccante di 28 anni. Il Crotone, secondo me, farà molta fatica e alla fine non si salverà. Benevento, campione di serie B con tanti record battuti ci si aspetta tantissimo dal Benevento alla seconda promozione in serie A l'altra volta si abilirono il record la prima neopromossa in serie B ad essere promossa direttamente in serie A questa volta hanno un pochino più di esperienza 28,2 anni di media in questo momento secondo me il plus del Benevento è l'attacco perché d'altra parte dopo aver preso la Padula e Caprari non puoi non sottolineare quel reparto però devo dire che sono molto ben assortiti anche in tutto il resto cioè è una rosa veramente formulata molto bene con giocatori anche di esperienza forse la difficoltà può essere, diciamo, l'aspetto negativo può essere la storia del Benevento e cioè comunque resta una squadra abituata alla serie C storicamente per decenni ed io che sono di Benevento ve lo posso testimoniare anche in questo caso l'incognita è l'allenatore non in quanto, non in generale ma proprio perché si tratta di Pippo Inzaghi nel senso che Inzaghi prima dell'esperienza al Benevento aveva avuto una brutta esperienza al Bologna era stato esonerato sostituito da Mihailovic riuscirà Inzaghi a confermarsi in serie A con ottime cose, le ottime cose fatte vedere in serie B e questo è il grande punto di domanda anche dei più ottimisti tifosi del Benevento i giocatori di rilievo ma ne cito tre che sono sostanzialmente tre nuovi acquisti ma ce ne sarebbero anche altri Gianluca Lappadula, attaccante, 30 anni Camil Glick, difensore centrale, 32 anni e Brian Dabbo, l'ultimo arrivato centrocampista dalla Fiorentina, 28enne secondo me il Benevento si salva e senza neanche troppa difficoltà Risalendo c'è il Genoa 27,4 anni di media in questo momento chiaramente il Genoa ha dalla sua la solidità è una squadra abituata alla salvezza ne ha fatte 14 consecutive è una squadra veramente per sapere come salvarsi in serie A chiedere al Genoa, davvero ma d'altra parte credo che possa giocare un pochino le sue carte il fattore sfortuna cioè alla fine gran parte di queste salvezze da parte del Genoa negli ultimi anni è stata anche per il rotto della cuffia sono state per il rotto della cuffia e quindi non è detto che anche quest'anno il Genoa riuscirà a salvarsi magari in extremis l'incognita per il Genoa secondo me sono i tanti giocatori che sono arrivati in prestito tre o quattro che possono essere una quota importante nel complessivo della rosa e quindi possono dare un po' di instabilità anche a livello di organico e di collettivo ovviamente i giocatori di rilievo sono Andrea Pinamonti che però lo nomino anche se in questo momento potrebbe passare all'Inter ma lo nomino lo stesso perché se resta è chiaramente un giocatore di rilievo se va via diventa un'assenza rilevante lui che è 21enne Mattia Perinner che ritorna in prestito dalla Juventus 27 anni il portiere e Lucas Lerager secondo me è il giocatore più importante per il centrocampo del Genoa 27 anni non mi spingo a dire che il Genoa retrocede ma secondo me avrà le stesse difficoltà della scorsa stagione troviamo poi risalendo la classifica il Torino in base alla classifica 2019-2020 l'età media della rosa del Torino è 26,2 anni vengono da 9 salvezze consecutive ma pensi al Torino non pensi alla salvezza pensi ad una media classifica di tranquillità con affaccio con vista sull'Europa credo che il Torino possa fare un campionato migliore della scorsa stagione e anzi devo dire che è obbligato praticamente a farlo perché l'anno scorso è stato veramente deludente hanno dalla loro la continuità progettuale ma più che altro la continuità dell'organico perché i giocatori ci sono molti giocatori del Torino che rappresentano l'ossatura della squadra da diversi anni forse il fattore negativo del Torino è la qualità perché comunque la rosa del Torino non è mai stata di elevata qualità anche dal punto di vista tecnico anche per il Torino l'incognita secondo me è rappresentata dall'allenatore perché Giampaolo aveva iniziato sotto i migliori auspici al Milan l'anno scorso per poi essere esonerato chissà se al Torino riuscirà a ritrovare un habitat a lui favorevole per fare ottime cose i giocatori di maggior importanza sono naturalmente Andrea Belotti attaccante 26enne Armando Izzo difensore centrale 28enne e Carol Linetti nuovo acquisto centrocampista di 25 anni che secondo me può fare la differenza anche a livello tecnico per il Torino mi aspetto una metà classifica Sampdoria 25,5 anni di età una squadra interessante che ha migliorato il suo score il suo rendimento nella seconda parte della stagione e d'altra parte io credo che Ranieri sia il fattore di maggiore importanza di maggiore impatto sull'esito del percorso della Sampdoria in questa stagione infatti il plus secondo me è rappresentato proprio dall'allenatore altro che incognita in questo caso mentre l'aspetto negativo della Sampdoria sono sicuramente le cessioni non ultimo appunto Linetti e il rischio appunto di ritrovarsi con una squadra che non sarà più in grado di offrire delle prestazioni di rilievo nonostante l'allenatore la bravura e l'esperienza dell'allenatore e l'incognita infatti è proprio l'ampiezza della rosa in questo preciso momento salvo ovviamente ultime operazioni di mercato la Sampdoria non ha una rosa soddisfacente e tale da poter dire che affronterà un campionato in maniera significativa e poderosa viene da 9 salvezze come il Torino cioè da 9 anni in serie A i giocatori di maggior rilevo sono Manolo Gabbiadini 28 anni attaccante Jakub Jankto segnalerei dal mio punto di vista centrocampista 24 anni e Gaston Ramirez terquartista 29 anni mi aspetto per la Sampdoria una metà classifica quindi una serie A migliore della scorsa Cagliari media età 25,8 anni e la situazione del Cagliari è veramente indecifrabile l'anno scorso avevano un affaccio sull'Europa poi sono crollati da gennaio in avanti ed infatti credo che il difetto del Cagliari anche per questa stagione possa nuovamente essere la continuità perché sostanzialmente la scorsa stagione hanno dimostrato proprio questo di essere in grado di crollare all'improvviso mentre il plus può essere rappresentato dalla gioventù della rosa dalla giovinezza nel senso che appunto l'età media è abbastanza bassa tra le più basse della serie A e quindi può giocare un ottimo fattore può essere un fattore di vantaggio vengono da 5 salvezze l'inconita anche per quanto riguarda il Cagliari secondo me è l'allenatore proprio a livello progettuale a livello della capacità di dare appunto continuità e di compensare le lacune di questa rosa che però vede veramente degli ottimi giocatori Nathan Nandez 24enne centrocampista Giovanni Simeone attaccante 25enne e Joao Petto trequattista 28enne diciamo che il Cagliari ha le armi per fare un ottimo campionato e anche per il Cagliari mi aspetto una metà classifica abbastanza tranquilla salendo salendo troviamo l'Udinese età media 26,6 anni viene da 26 salvezze consecutive tolte le big è praticamente la squadra che è presente in serie A da più anni e questo è assolutamente un fattore da tenere in considerazione ma ogni anno per l'Udinese è un anno complicato perché sicuramente il plus dell'Udinese per me è la qualità hanno una rosa di qualità sicuramente importante una rosa ampia una rosa di buona tecnica e anche con una buona continuità di presenze cioè non ci sono stati recenti stravolgimenti significativi però può essere un problema anzi tra incognita e difetto io metterei entrambi infortuni e mercato l'infortunio di Rolando Mandragola pesa così come può pesare il mercato nel caso l'uscita di Rodrigo De Paul ed infatti è sicuramente il giocatore più forte dell'Udinese Rodrigo De Paul trequartista 26enne poi segnalerei Juan Musso portiere 26enne e Rodrigo Becao difensore 24enne se l'Udinese riuscirà a trattenere De Paul e anche gli altri giocatori più importanti magari anche a mettere a segno un ulteriore colpo di mercato in queste ultime settimane possiamo pensare ad un Udinese che scavalca la prima metà di classifica Bologna 25,5 anni di età in media ed è un'ottima squadra questo Bologna che viene da 6 salvezze ma sembra a livello progettuale avere una maggiore continuità di rendimento e di presenze in Serie A il plus del Bologna anche in questo caso è l'età media ancora più bassa di quella del Cagliari quindi la giovinezza media dei giocatori va sicuramente segnalata come un elemento di favore diciamo il difetto possono essere le conferme nel senso chi ha fatto bene la scorsa stagione farà bene anche quest'anno e in tal senso c'è anche l'incognita delle ambizioni nel senso che il Bologna può spingersi a sognare l'Europa League seriamente con questa continuità progettuale assicurata da Sinisami Ailovic ma questo potrebbe anche distogliere poi dall'obiettivo concreto che è quello della salvezza e quindi portare ad un campionato altalenante mi aspetto che il Bologna sostanzialmente finisca forse anche dietro un Udinese forse anche dietro un Cagliari però sarei deluso in tal caso perché credo che abbiano le carte in regola per fare meglio i giocatori più significativi volendo recitare solo tre ma ce ne sono anche altri Riccardo Orsolini alla destra 23enne Takehiro Tomiyasu terzino destro 21enne e naturalmente Musa Barrow l'astro nascente attaccante di 21 anni Parma il Parma altra rivelazione dello scorso campionato età media però piuttosto alta 27,6 anni pesa forse in uno alla conferma di Gervinio la partenza di Kuluzeski però sinceramente io per il Parma non la vedo molto bene credo che sarà invischiato nella lotta per non retrocedere complice il fatto che hanno cambiato l'allenatore inspiegabilmente mandando via Roberto D'Aversa e chiamando Fabio Oliverani ed è proprio l'allenatore l'incognita del Parma secondo me mentre l'aspetto positivo sono i rinforzi i nuovi acquisti che comunque sono stati messi a segno però si segnalano troppe novità troppe entrate e troppe uscite questo può essere un difetto che può comportare appunto dei problemi di rendimento per il Parma che comunque può far può segnalare diciamo possiamo sottolineare per la rossa del Parma giocatori come Andreas Cornelius attaccante a 27 anni Jan Caramot altro attaccante alla destra a 22enne e poi Hernani segnalerei Hernani che secondo me può fare una buona stagione mediano brasiliano di 26 anni e quindi come vi dice quel Parma secondo me sarà nella seconda metà di classifica la Fiorentina che squadra enigmatica che squadra ricca di sfumature significati ipotesi e pronostici tutti teoricamente validi 26,2 anni d'età la media e credo che sia una Fiorentina che deve assolutamente riscattarsi dopo stagioni sicuramente deludenti il plus della Fiorentina è senz'altro il mercato è stato fatto fin qui un mercato buono e può essere anche migliorato già l'acquisto di Buonaventura io lo vedo molto molto bene e le mancate cessioni di giocatori importanti come per esempio Vlaovic e Castrovilli in questo momento così come la permanenza di Cutrone a quanto pare poi ripeto il mercato è ancora aperto mentre il difetto se vogliamo non è un difetto perché questa Fiorentina ha una sovrabbondanza teorica di giocatori per cui potrebbe anche avere questo problema poi nella gestione naturalmente l'incognita diventa anche il progetto perché comunque Iachini non credo che sia il miglior allenatore per questa Fiorentina e anche che le beghe societarie o comunque tutto quello che ruota attorno al mondo viola tra commesso le sue dichiarazioni i suoi progetti e le voci di mercato potrebbe anche destabilizzare l'ambiente 17 le salvezze consecutive per la Fiorentina ma non credo che sia in discussione la retrocessione e la salvezza io credo che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per affacciarsi sull'Europa con tra l'altro giocatori tra gli altri come Federico Chiesa che a me non piace tantissimo ma resta uno dei giocatori più forti della Viola attaccante destro alla destra 22enne Sofia Namrabat nuovo acquisto appunto centrocampista 24enne e Gaetano Castrovilli centrocampista centrale di 23 anni passiamo poi al Verona il Verona l'anno scorso pure ha fatto un'ottima classifica appunto e al momento del lockdown anzi era virtualmente in Europa League al posto del Milan 26,5 l'età media credo che il Verona abbia dalla sua come pregio principale il progetto la progettualità che tra l'altro è legata strettamente al nome del suo allenatore Juric che può confermare anche al Verona l'ottimo rendimento della scorsa stagione il problema può essere il mercato perché non è stato un mercato significativo non è stato un mercato fin qui di grandi rinforzi anche se è abbastanza un mercato intelligente e diciamo studiato per andare a fare degli acquisti mirati l'incognita credo che sia il rendimento un po' come il Cagliari un po' come il Bologna sono quelle squadre che sono delle mine vaganti anche per se stesse anche per loro stesse per cui il Verona può arrivare nella prima metà di classifica ad affacciarsi nuovamente sull'Europa dipenderà dal suo grado di concentrazione settimana dopo settimana vengono da due salvezze sostanzialmente sono una recente neopromossa che però sta facendo molto bene con giocatori che segnalo come Mattia Zaccagni centrocampista 25enne Federico Di Marco in prestito dall'Inter terzino sinistro 22enne e naturalmente Gian Giacomo Magnani anche lui in prestito dal Sassuolo difessore centrale di 24 anni e proprio il Sassuolo 25,7 anni di media è la squadra che ritroviamo subito avanti in classifica Sassuolo ha affidato ancora a Roberto De Zerbi uno dei migliori allenatori italiani attuali e di prospettiva ed infatti il plus del Sassuolo ma questo da anni è senza dubbio il progetto e quando parlo di progetto parlo di Rosa di allenatore e di società una squadra seria una società seria affidabile con un progetto serio che vuole puntare in alto ed è possibile secondo me che il Sassuolo si affaccia all'Europa ma io direi che con certezza finirà nella prima metà di classifica forse la difficoltà il difetto del Sassuolo ma non è un vero e proprio difetto era proprio per trovarne uno è la giovinezza l'eccessiva gioventù di molti giocatori che può essere anche può anche tradursi in inesperienza mentre l'incognita sono come per il Bologna le ambizioni riuscirà il Sassuolo a mantenere la testa salda nel momento in cui dovesse trovarsi al settimo o al sesto posto occasionalmente della classifica di Serie A oppure a causa di questo subirebbero un grosso calo con giocatori di assoluto rilievo e di assoluto interesse ve ne cito tre ma ce ne sarebbero sicuramente altri come Jeremy Boga voluto cercato da tutti alla sinistra 23enne Manuel Locatelli vicino addirittura alla Juve mediano 22enne e poi sottolineerei suggerirei segnalerei Mert Muldur terzino destro 21enne che è veramente molto interessante e poi saliamo finalmente alle big diciamo così ma fino adesso abbiamo visto squadre molto interessanti con il Napoli 26,7 anni d'età media il Napoli l'anno scorso sostanzialmente si è adagiato sulla vittoria della Coppa Italia priva di riprendere il campionato certo della qualificazione all'Europa League ma avrebbe potuto fare anche una classifica migliore di questa il plus del Napoli è il gruppo per continuità di presenza e di permanenza in rosa di molti giocatori e poi sinceramente io confido molto in Gattuso secondo me ha fatto un eccellente lavoro rilevando la squadra da Ancelotti l'anno scorso e potrà finalmente partire come allenatore dal primo giorno di questo nuovo campionato con la preparazione che ha già potuto svolgere dicendo la sua senza nessun condizionamento senza nessun asterisco che sicuramente gli era diciamo da assegnare l'anno scorso per aver rilevato la squadra in corso di stagione il problema del Napoli il difetto è il mercato perché ci sono ancora giocatori forti che potrebbero partire mentre l'incognita ovviamente rappresentata dall'Europa League dal fatto di doversi giocare l'Europa League invece della Champions che potrebbe anche portare il Napoli a delle ambizioni particolari nel corso della stagione che non le consentiranno poi di gestire il doppio impegno il Napoli è in Europa consecutivamente da dieci anni e quindi questo significa che comunque l'abitudine ce l'hanno i giocatori che segnalo sono naturalmente Vittorio Simeon che ha tantissime aspettative addosso attaccante 21enne appena acquistato per 70 milioni e oltre Fabian Ruiz che secondo me resta il centrocampista più forte del Napoli 24 anni e Koulibaly naturalmente 29 anni difensore centrale che però potrebbe non vedere l'inizio della stagione per essere trasferito altrove salendo salendo c'è il Milan il Milan che ha praticamente l'età media più bassa in questo momento 24,9 anni nonostante Ibrahimovic ed infatti il plus del Milan è la giovinezza dei suoi giocatori mentre il difetto possono essere forse le eccessive aspettative il Milan si sta pompando tanto da parte dei media da parte di tuoi osservatori tifosi ma in generale anche un po' da parte dell'ambiente stesso e anche giusto perché si aspetta il ritorno del grande Milan da tanti anni e d'altra parte il Milan è in Europa solo da 4 stagioni consecutive in realtà se andiamo più a ritroso da ben più tempo ma ci sono state molte stagioni in cui il Milan non ha partecipato alle coppe europee l'incognita è l'allenatore perché Pioli al secondo anno già in passato ha dimostrato di non riuscire a confermare le buone impressioni e il rendimento della stagione precedente e secondo me non è neanche l'allenatore migliore per questo organico un organico che sicuramente si è rinforzato se non altro con l'acquisto di Sandro Tonali che è tra i giocatori che segnalo ovviamente 20 anni lo sapete bene oltre a Braib Diaz trequartista 21enne e Gigio Donnarumma portiere che credo che quest'anno possa affermarsi come ancora di più un portiere molto molto forte ma ci sono anche altri giocatori significativi che sono rimasti come Teo Hernandez o come Castiglieco non ho detto prima il Napoli ma sostanzialmente l'ho accennato dal Napoli ci si aspetta la qualificazione alla Champions e me l'aspetto anche dal Milan però sono già due posti per cui poi sarà un'aspra lotta non ancora in Champions ma siamo ancora in Europa in zona Europa League troviamo la Roma 26,8 anni questo significa una delle età medie più alte della Serie A sicuramente il pregio della Roma è la qualità complessiva della Rosa con giocatori molto interessanti non a caso cercati da tante squadre penso a Justin Kluivert che potrebbe restare ma resta un giocatore importante il problema però è appunto il mercato perché ci sono ancora delle cessioni in bilico delle cessioni in ballo per la Roma senza contare l'infortunio di Zagnolo che spezza le gambe prima ancora di iniziare la stagione ed infatti l'incognita sempre e comunque per la Roma restano stagione dopo stagione gli infortuni perché c'è sempre stata una grande fragilità muscolare una grande una scarsa garanzia di continuità di rendimento da parte dei vari giocatori per cui potrebbero trovarsi come già nelle passate stagioni a dover fronteggiare una carenza di giocatori significativa sono in Europa da otto anni l'avreste detto mai sì la Roma è in Europa da otto anni nonostante ecco magari del Milan sia un'opinione migliore ma invece chi sta dando maggiore continuità di presenza in Europa in Italia è la Roma e i giocatori che vado a segnalare tolto naturalmente Zagnolo che è infortunato purtroppo sono Lorenzo Pellegrini che potrebbe confermarsi ad altissimi livelli di costruzione di assist e di rifinitura 24 anni Amadou Di Avarà che secondo me potrebbe fare il salto di qualità definitivo quest'anno alla Roma da mediano 23 anni e poi Gianluca Mancini anche da lui mi aspetto il salto di qualità come difensore centrale 24 anni ma non mi aspetto la Roma posizionata in zona Champions anzi potrebbe addirittura affacciarsi all'Europa League solo per la porta dei preliminari ed entriamo invece in zona Champions con l'altra squadra di Roma la Lazio 27,5 anni l'età media alta e sicuramente il plus della Lazio è la continuità perché anche in questo caso parliamo di un progetto longevo con lo stesso allenatore con giocatori che sono lì da tanto tempo forse troppo ed infatti un difetto della Lazio possono essere i rinforzi non adeguati per andare ad affrontare la Champions League dopo una stagione in cui si è affrontata solo l'Europa League e tra l'altro senza neppure crederci molto e l'incognita infatti è proprio la Champions la Lazio non va in Champions da 13 anni se escludiamo una misera partecipazione con eliminazione ai preliminari nella stagione 15-16 per cui può essere veramente un banco di prove importante per questa Lazio che ha sfiorato addirittura lo scudetto in alcune fasi della stagione l'anno scorso vediamo se Simone Zaghi sarà in grado in questo caso e la rosa anche di reggere seriamente il doppio impegno perché la Champions di certo non si può prendere sotto gamba come l'Europa League e si hanno però i giocatori adeguati per affrontarla con Luis Alberto 27 anni Ciro Immobile 30 anni e naturalmente il solito Milinkovic-Osavic 25 anni chiamato a fare una stagione di rilievo dopo l'ennesima forse stagione un pochino deludente salendo troviamo l'Atalanta terzo posto meditatissimo 25,5 anni si aspettano tutti grandissime cose dall'Atalanta alla sua seconda partecipazione consecutiva alla Champions League che ha veramente onorato tantissimo il plus dell'Atalanta è infatti la crescita e la dimostrazione di saper crescere anche nel corso della singola stagione sarà un'Atalanta forse ancora ai vertici della Serie A anzi me l'aspetto necessariamente nei primi quattro posti sarebbe una delusione se tornasse in Europa League o addirittura fuori dall'Europa ma non me l'aspetto anche se la difficoltà dell'Atalanta può essere comunque la scarsa abitudine a questo tipo di impegni nonostante l'anno scorso ripeto l'abbiano onorato tantissimo in tal senso l'incognata può essere la Champions perché guai se l'Atalanta si montasse la testa pur avendo comunque gli strumenti per farlo però potrebbe poi portare ad uno scarso rendimento in campionato non di pari passo e alle ambizioni europee un'Atalanta che può contare come sempre su Duvan Zapata 29 anni Robin Gosens 26 anni e Martin Deron segnalo questi tre ma potrei segnalare anche Malinowski potrei segnalare naturalmente Froiler Ilicic se tornerà il solito Papu Gomez e anche tutti gli altri però è sicuramente un organico molto importante guidato molto bene da Giampiero Gasperini che potrebbe finire di nuovo in Champions secondo posto della passata stagione l'Inter di Antonio Conte 26,9 anni di età media sicuramente per l'Inter dobbiamo parlare della prontezza nell'andare ad affrontare questa stagione l'Inter è facilmente definibile come un instant team hanno puntato stanno puntando tanto sull'usato sicuro sui giocatori pronti e capaci di andare a vincere o comunque di fare una grandissima cavalcata in questa stagione il difetto può essere la società o meglio le beghe societarie i litigi con Antonio Conte le sparate le uscite pubbliche di Antonio Conte che ha nominato sembrerebbe alla base un rapporto che l'anno scorso agli inizi sembrava veramente saldo e l'incognita è appunto Antonio Conte ma non perché ci possono essere problemi nello svolgimento di questa stagione nell'affrontare i vari impegni ma semplicemente se semplicemente può dirsi perché Antonio Conte è una mina vagante ed è un'incognita lui sempre e comunque lo dico con tutto l'affetto e con tutta la stima per un grandissimo allenatore ovviamente l'Inter ha l'obiettivo scudetto non può nascondersi dietro questo e credo che sia l'unica di due squadre realmente seriamente candidata a poterlo vincere non vedo proiettate per lo scudetto né l'Atalanta né la Lazio Roma Milan Napoli e le altre a scendere quindi vedo non tanto una lotta a due perché potrebbe essere più ampia ma una lotta finale a due tra l'altro con l'Inter che appunto ci aspetta come sfida per quanto riguarda la Juventus se non ricordo male è la penultima giornata quindi potrebbe essere una sfida scudetto molto molto importante e decisiva i giocatori più significativi dell'Inter neanche a dirlo sono Lukaku e Lautaro ai quali possiamo tranquillamente aggiungere il nuovo acquisto 21enne a Kraf Hakimi e chiudiamo con la Juventus l'età media più alta della Serie A in questo momento 28,4 anni naturalmente per la Juventus il plus è il rinnovato entusiasmo proclamato da Andrea Agnelli portato da Andrea Pirlo da Andrea ad Andrea inevitabilmente l'entusiasmo c'è nei tifosi nello spogliatoio nei giocatori poi bisogna vedere se questo entusiasmo riuscirà ad essere tradotto in pratica sul campo mentre il difetto è proprio l'età media della Juventus che porta comunque ad avere un organico scricchiolante in alcuni casi con una alta frequenza di infortuni forse anche con un'ambizione un po' più ridotta perché si prova un certo appagamento che era stato segnalato anche da Sarri l'anno scorso tutti i difetti attuali o ipotetici dai quali stare alla larga l'incognita neanche a dirlo e Andrea Pirlo ma non per qualche non per togliergli diciamo campo e diciamo potere e aspettative ma semplicemente perché non ha mai allenato quindi si dice che sarà un predestinato e molti lo sperano io lo spero però poi bisognerà vedere se davvero sarà così Juventus che naturalmente punta al decimo scudetto consecutivo i tre giocatori che segnalo ma ce ne sarebbe ovviamente a segnare anche più di uno più di tre più di anche qualcun altro sono ovviamente Cristiano Ronaldo Paolo Di Bala e non direi tanto De Ligt che è sicuramente una certezza ma parte da infortunato bensì un giocatore dal quale mi aspetto tanto è il neocquistato Artur quindi chi vincerà lo scudetto chi si salverà chi si qualificherà per la prossima Europa League e la prossima Champions League lo scopriremo solo seguendo il campionato questo era diciamo il mio pronostico o meglio una mia analisi ragionata squadra per squadra spero che vi sia piaciuto il tutto mi ha richiesto tanto tempo la preparazione di questo video spero che lo apprezzerete mettendo un like extra in ogni caso e fatemi sapere nei commenti qual è la vostra analisi qual è il vostro pensiero sulla Serie A che sta per cominciare naturalmente iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie